guarda davanti tu hai già studiato? tu hai già studiato? mi immagino guarda ci hai messo 5 minuti non sai neanche cosa c'era scritto è quello il bello? Gerusa Gerusa lo segno, ho visto partenza regolare per questa penultima finale anche qua chi arriva prima è campione regionale molto semplice non c'è tempi non c'è posizione c'è solamente da arrivare primi cambio avvenuto adesso nella parte opposta del percorso e andiamo a buttarci per questo finale per vedere chi è campione regionale mi sembra sia abbastanza scontato bj il briazza in line campione regionale